Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale! In qualche video fa vi avevo chiesto se vi sarebbe interessato un video riguardante le mini palettine di Revolution Mi avete detto di sì e quindi eccomi a provarle insieme a voi Le palettine in questione sono queste, sono di iHeart Revolution, nello specifico l'avocado sui toni del verde e la peach sui toni del rosa pescato aranciato Queste sono le palettine al loro interno, io as always mi sono avvicinata per farvi vedere meglio il look Se vedete le mie sopracciglia strane tipo con la ricrescita sotto è perché ho tolto totalmente le mie le ho disegnate sopra e sono che stanno ricrescendo Come al solito non mi ricordo se ve l'ho detto ma ho già applicato il primer e direi quindi di iniziare questo look Con un pennello a penna vado a prelevare questo colore, questi non hanno nomi o meglio sul retro ci sono i numeri però gli ombretti non hanno dei veri propri nomi Ok come potete vedere il pigmento direi che c'è, ho solo appoggiato il pennello nella cialda Vado nella parte più esterna, come il mio solito picchietto potete vedere che comunque c'è un sacco di pigmento Vado già a dare una forma un pochino allungata Sta facendo un po' di fallout che comunque ha tanto pigmentato e lo sto picchiettando quindi è normale Alla fine lo fanno anche ombretti di brand high cost quindi non possiamo assolutamente dire niente Vado con un altro pennello, questo più cicciottino da sfumatura e vado a sfumare la situa con questo E sfumo il colore applicato prima Preferisco andare prima con i colori scuri e poi sfumare con quelli più chiari Per evitare che magari il colore più scuro su quello più chiaro non mi prenda Ma è una cosa che solitamente faccio in generale con tutti i brand non solamente con questi più low cost Prendo un altro pennello da sfumatura pulita e vado a sfumare L'unico colore che sento mi manca in queste palette è un panna, non c'è in nessuna delle due Però da una parte ci sta perché sono le piccole e quindi ci sta che siano totalmente concentrate sul tema della palette Queste ci sono anche in versione grande e lì se non ero credo che il panna ci sia Comunque ci sono un sacco di colori intermedi Ovviamente qua hanno tenuto quelli più attinenti al tema della palette appunto Intanto oggi mi sto truccando con le cavie che mi girano attorno Infatti se sentite dei versetti sono loro Vado a rimuovere un pochino di fallout e inizio a sistemare la forma Questa è una cosa in realtà che potreste fare benissimo tranquillamente una volta finito Di applicare gli ombretti A me dà fastidio vedere la forma comunque non pulita e quindi lo faccio prima Passo ora alla palettina verde e vado con quest'oliva Applico il colore verde oliva nella parte più interna Questi sono colori che si sono applicati su una base non bianca Non rendono solitamente come nel pen Infatti come potete vedere è molto trasparentino Proviamo ad andare a stratificarlo Ok sì, si intensifica però è un colore come potete vedere che resta sempre un po' più trasparentino Servono basi tipo il matitone che utilizzo di solito di NYX la Jumbo Eye Pencil comunque molto chiara, molto appiccicosa Con quelli ti prende benissimo Ho applicato a Modicat Crazy un po' di base glitter E direi assolutamente di andare con questo rosa L'ho prelevato con un pennellino a lingua di gatto e direi che ci appara da solo Vedete quanto si riesce a prelevare bene Cioè raga io la prima volta che ho utilizzato queste palette sono rimasta scioccata E potete capire il perché Cioè raga sembra veramente una palette super high cost Ha una qualità wow stupenda E la parte più interna vado invece sempre con un altro pennellino piatto Questo ha una forma un po' diversa dall'altra perché l'altro che ho uguale è a lavare E vado ad applicare questo verde Raga che dire se non che meraviglia Cioè guardate quanto sono riflettenti Vado a sistemare lo stacco Andando a sfumare ancora un po' di rosa e di marrone Stupendo no raga non ho parole Beh veramente bellissimo Poi dopo ve ne parlo meglio nei final thoughts Comunque io vado a fare l'altro occhio e la base out of camera Ci rivediamo dopo insieme per illuminante Che ve ne mostro uno che in realtà sul mercato davvero dà tantissimo Però trovo che con queste palette si è molto azzeccato E non credo di avervelo mai fatto vedere Eccomi tornata con il look occhi terminato Sono andata a sfumare una matita nera nella rema inferiore dell'occhio Insieme a questo ombretto E ho applicato questo nell'angolo interno Super luminoso Come vi stavo dicendo poco fa Vi aspettate per andare ad applicare l'illuminante Perché sempre di I Heart Revolution Ho portato il Peach and Glow a forma di tavoletta di cioccolata E questo è l'interno È veramente bello Io ce l'ho da non so neanche io quanto Veramente tantissimo Ho sempre utilizzato questa parte come illuminante Perché questa è veramente rosata Secondo me è molto bella in estate come blush luminoso Quindi vado a prelevare la parte più chiara Come volete vedere è uno di quelli che rilascia un po' di pigmento Lo trovo molto molto bello Alla fine è un colore che sta un po' su tutto Per quanto riguarda le labbra Pensavo di andare a ricreare una combo Che sto utilizzando abbastanza ultimamente È sui toni del nude marroncino Vado quindi a delineare il contorno delle mie labbra Con Closing Time del pastello di Neve Cosmetics E vado a riempire con Celebrity Skin dei Velvet Trap di Jeffree Star Questa è la colorazione super freddina Invece tantissimo Amo questa formulazione di rossetto Tra l'altro se mi seguite sapete quanto io sia team rossetto liquido Quindi io per apprezzare un rossetto in stick Capite che deve piacermi davvero tanto Anche un'attima profumazione dolcina Niente di troppo forte Vado ora ad applicare un gloss Voglio applicare questo di Kiko Il Tascan Sunshine Hollow Lip Gloss Perché ha dei riflessi stupendi Ed è molto molto glossato Spero renda perché è veramente stupendo Vado ad applicarlo con un pennello in silicone Per non sporcare l'applicatore Cioè raga wow Trovo che si stia anche molto bene con questo look E quindi niente raga Io direi che possiamo passare definitivamente alle conclusioni finali Vi consiglio queste palette tantissimo Costano veramente poco Non mi ricordo quanto costano Tipo sui 6 euro I matte burrosissimi Super scriventi Super sfumabili Bel pigmentati Comunque intensi No raga sono stupendi Veramente basta appoggiare il pennello nel pen E ci colorate casa Allora ditemi a vederlo così Se vi sembra un look fatto con delle palette da 6 euro l'una Anche gli shimmer Cioè raga Pazzeschi Applicati col pennello raga La maggior parte delle formulazioni di shimmer applicate col pennello Non rendono assolutamente Come vi dicevo Esistono anche le versioni grandi Non so se la formulazione sia la stessa Io mi auguro di sì In ogni caso io vi consiglio queste piccole Se appunto magari non vi interessano altri colori più di transizione Magari avete già altre palette per quello Volete delle palette incentrate su una colorazione Queste sono stupende Quindi nulla raga Questo era tutto per il video di oggi Io vi ringrazio per essere stati con me fino alla fine del video Come al salito vi ricordo di andare a dare un'occhiata giù nell'info box Perché lì troverete tutti quanti il link per andare a seguirvi anche sugli altri miei social E nulla Io vi mando un mega bacione Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video Ciao Ciao